Buongiorno a tutti ragazzi, abbiamo tornato a fare un nuovo video Ehm... Volevo far vedere intanto Ho scritto a... Io l'ho scritto Ho scritto a... Ho scritto a... A Chris Un attimo Su... come si chiama? Su... sulla sua pagina Instagram Ho pagato solo 3,30 euro E mi han dato Uno e due Ma la cosa più bella raga, guardate Spero che ve lo fa vedere Nooo, ora è offline Vabbè ve lo faccio vedere da quando... ora che è a spento Eccolo Lollo is back Voucher Online 20 minuti fa Lui Ehm... Ehm... E' come si chiama? Ehm... E' Chris C'ho la richiesta di Chris Prima è stato in lobby Io ho anche raccontato dell'inventario E mi ha detto che... Perché se tu droppi il tuo inventario Quindi così Karim non me lo droppare Troppo il tuo inventario Poi lo riprendi e quitti subito Perdi il inventario Quindi devi prima droppare uno di questo Uno di questo E uno di questo E poi... Così... Non lo perdi Me lo ha detto lui Così Eh, dopo non c'è da vai Io niente Ehm... Vabbè quindi volevo solo farvi vedere che ho Ah, guardate che ho truffato Ho truffato questa Lancia... Lancia uova Natura Ehm... Ma poi quello non si è arrabbiato Anzi ho detto Vabbè dai Vuoi diventare amico Poi questo tiene Tanto ne ho venti E poi Poi io ho detto Ma mi aiuti a fare una cucchettina per un video Quello è stato Mutalo un attimo Karim Mutalo Quello Dei miei amici Karim Mi hanno detto che è un truffatore Quindi quello fa finta Quindi ora Noi facciamo finta che ci serve una cucchettina per un video Invece a moglie soffermi l'inventario Vabbè Comunque Eh Allora Vabbè Mi volevo solo far vedere che ho La richiesta di Chris is back Magari ce l'avrei di Mr. Fredo Ma lo sai perché è più difficile di Mr. Fredo? Perché Mr. Fredo è un mille account Invece Chris è solo uno Perché Perché No forse due Perché Quando sono entrato era a Montespago Sono entrato nella lobby Montespago E c'era anche un suo amico E c'era anche un suo amico Penso che era un altro amico youtuber Non lo so Non lo conosco Non lo conosco Comunque guarda Karim prendilo in mano Guardate Questo è rarissimo non si trova Prendilo in mano Oh e sbricchiati Grazie mi servono da dare gli STX E lui mi dà mi 130 Guarda Guardate Le metto energia Cioè no Che non è energia Vai da Ma secondo te era meglio lanciarlo in natura O Energia Scappo col bottino Che ci fai con 22 atti? Stia 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 Mi dispiace è finita così nell'ultimo video con te E finita anche ora Ma fa' la manta Stia Spero che il video vi sia piaciuto E se vi è piaciuto mettete un bel like Iscrivetevi al canale E ciao